Buonasera da Michelino DJ Pienza Radio 67 Serata flop totale alle due rotonde per questa visione della luna che non è stata vista Sbagliato la location nei tempi e tutti Poi un ingresso allucinante, 15 euro di ingresso per dare un telescopio a noleggio Per farlo vedere un buffet misero, una cosa veramente incresciosa Niente, purtroppo è andata male ragazzi Comunque ci saranno altri appuntamenti per vedere questi fenomeni della natura Non vi preoccupate però questa volta le due rotonde hanno veramente deluso E poi la luna se vista o non se vista non si sa, è andata così Comunque a questo punto vi saluto come sempre Come diceva Alporo, stetti più alto Poi andremo avanti su questo discorso Ci siamo conosciuti insieme Ciao alla prossima